Benvenuti all'oroscopo di oggi, 2 ottobre. Scopriamo insieme cosa riservano le stelle per questo nuovo mese. Preparati per le previsioni del tuo segno zodiacale. Signoriete, oggi la tua passione brilla come non mai. I tuoi sogni hanno il potenziale per diventare realtà. Quindi ascolta il tuo cuore e non esitare a esprimere i tuoi sentimenti. L'amore è nell'aria. Fai un gesto dolce che sorprenderà qualcuno. Ricorda. Ogni passo verso i tuoi obiettivi ti avvicina alla tua vera essenza. La tua determinazione ispira chi ti sta intorno. Rifletti su ciò che desideri davvero e lascia che l'universo ti indirizzi. La tua energia positiva risplenderà anche negli altri. Il desiderio di azione e novità potrebbe mettervi in una posizione scomoda nelle vostre relazioni. Potreste sentire una forte spinta a cambiare le dinamiche o a prendere decisioni affrettate, ma le stelle vi consigliano di non agire d'impulso. Il momento richiede riflessione e, se siete in coppia, cercate di coinvolgere il partner nei vostri pensieri. Chi è single potrebbe avere l'occasione di incontrare qualcuno, ma sarà importante non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo iniziale. Novità in arrivo, soprattutto in ambito professionale. Se sta cercando di aprirvi nuove strade, questo è il momento ideale per insistere. Segno Toro. Oggi la tua natura sensuale e affettuosa si manifesta in modo straordinario. Prenditi un momento per apprezzare le piccole gioie. Un sorriso. Un abbraccio. Il profumo dei fiori. Questi dettagli possono creare una connessione profonda con il tuo mondo interiore. In amore. La stabilità che cerchi è a portata di mano. Apri il tuo cuore e condividi i tuoi desideri. La tua forza mentale ti aiuterà a superare le sfide. Una giornata in cui la stabilità diventa un rifugio sicuro. Le stelle vi invitano a valorizzare le piccole cose che rendono solida una relazione. La fiducia. La cura reciproca e il rispetto. Non aspettatevi grandi rivoluzioni. Ma piuttosto una serenità che riempie di senso le vostre giornate. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno che condivide i vostri valori e desideri, portando alla costruzione di una relazione duratura. Lasciate che le cose si sviluppino con calma, senza forzare i tempi. Sul lavoro. Questa sarà una giornata produttiva, ma dovrete prestare attenzione alle persone con cui vi relazionate. Non sempre chi vi circonda ha buone intenzioni, quindi fate affidamento sul consiglio di persone esperte. Se vi trovate a un bivio, non esitate a chiedere aiuto a chi ha più esperienza di voi. Segno gemelli. Oggi sei circondato da un'aura di curiosità e comunicazione. Utilizza la tua capacità di espressione per stabilire legami profondi con le persone che ami. Le parole sono potenti. Quindi parla con sincerità e ascolta attentamente. Gli incontri inaspettati potrebbero portare rivelazioni emozionanti. Non temere di esplorare nuovi orizzonti. Il tuo spirito avventuroso è la chiave per la crescita personale. Rifletti sulle tue aspirazioni e lasciati guidare dall'intuito. La tua dualità ti rende unico. E oggi la tua autenticità sarà la tua forza. La vostra capacità di comunicazione oggi sarà il vero asso nella manica. Avrete la possibilità di chiarire quelle piccole tensioni che, se lasciate irrisolte, potrebbero portare a conflitti più grandi. Le parole fluiranno con facilità, creando ponti tra voi e il partner. Chi è single potrebbe trovare nel dialogo una chiave per nuove connessioni, in particolare durante un evento o una riunione sociale. Lasciate che la leggerezza e la simpatia siano il vostro biglietto da visita. È un periodo un po' turbolento per le coppie nate sotto questo segno. Se ci sono stati malintesi o divergenze, è ora di affrontarli e di non rimuginare troppo su quanto accaduto. Segno cancro. Oggi il tuo cuore è la tua guida, illuminando il cammino verso relazioni più profonde. La tua sensibilità ti permette di comprendere le emozioni degli altri, rendendoti un confidente prezioso. Non avere paura di aprirti. Condividere i tuoi sentimenti può portare a una connessione unica. In ambito spirituale, concediti momenti di introspezione. Una pratica di meditazione o semplicemente contemplare il mare può rinnovare la tua energia. Ricorda che la tua dolcezza è un dono. Oggi, abbracciala e permetti agli altri di beneficiarne. L'amore e la compassione sono le chiavi per il tuo benessere. Il vostro desiderio di protezione potrebbe portarvi a essere un po' troppo possessivi oggi. La paura di perdere ciò che avete costruito con il partner potrebbe farvi alzare muri, ma le stelle consigliano di lasciarli cadere. È solo aprendovi completamente che potete trovare la vera connessione. I single potrebbero sentirsi attratti da una persona che sembra rispecchiare le loro fragilità, ma attenzione a non idealizzare troppo. Siete chiamati a esplorare nuovi orizzonti, sia in amore che nel lavoro. Anche se potreste trovarvi di fronte a qualche difficoltà o intoppo, cercate di mantenere uno spirito intraprendente e di non farvi scoraggiare. Il vostro coraggio e la vostra determinazione vi porteranno a superare ogni ostacolo. Segno leone, oggi il tuo spirito regale risplende come non mai. La tua presenza magnetica cattura l'attenzione e il rispetto di chi ti circonda. Non esitare a condividere le tue opinioni, ma fallo con calore e sincerità. Il tuo carisma avrà un impatto profondo. In amore, la passione potrebbe fiorire. Sorprendi il tuo partner con gesti romantici e inaspettati. Prenditi un momento per riflettere su ciò che ti rende felice. La tua autenticità è la tua forza. E oggi è il giorno perfetto per abbracciare la tua vera essenza. Ricorda. La tua luminosità ispira anche gli altri. Una giornata all'insegna della grandezza e della generosità emotiva. Le vostre relazioni amorose potrebbero beneficiare della vostra capacità di dare senza aspettare nulla in cambio. Tuttavia, fate attenzione a non eccedere. Il confine tra l'altruismo e la perdita di sé è sottile. Le energie astrali sono favorevoli per dialoghi profondi. Dove emergono verità che potrebbero trasformare la vostra relazione. Per i cuori solitari, un'avventura romantica potrebbe prendere forma inaspettatamente. Segno vergine. Oggi la tua mente analitica e il tuo cuore gentile si fondono per creare armonia. Dedica un po' di tempo a te stesso. Una routine di benessere o una passeggiata nella natura può rinfrescare il tuo spirito. In amore, i piccoli dettagli possono fare la differenza. Un gesto affettuoso potrebbe significare molto per qualcuno. Sii aperto ai cambiamenti e alle opportunità che si presentano. Il tuo impegno e la tua dedizione saranno ricompensati. Ricorda. Ogni giorno è un nuovo inizio. Affronta le sfide con pazienza e lascia che la tua luce interiore risplenda. Le relazioni oggi potrebbero sembrare più complesse del solito. Potreste sentirvi sopraffatti dalla necessità di analizzare ogni dettaglio, rischiando di perdere di vista il quadro generale. Il consiglio degli astri è di lasciare andare un po' il controllo e di fidarvi del vostro intuito. Chi è in coppia potrebbe dover affrontare qualche piccola crisi. Ma nulla che non possa essere risolto con un po' di pazienza. I single farebbero bene a prendersi del tempo per riflettere sui propri desideri. Segno bilancia. Oggi la tua natura armoniosa e diplomatica ti guiderà verso interazioni significative. Le relazioni sono al centro della tua attenzione e potresti sentirti ispirato a risolvere eventuali conflitti o malintesi. La tua capacità di vedere entrambi i lati di una situazione ti permetterà di mediare e creare un ambiente sereno intorno a te. In amore. Non esitare a mostrare la tua vulnerabilità. La sincerità può rafforzare il legame con il tuo partner. Rifletti su ciò che desideri veramente nella vita, sia a livello personale che professionale. La tua bellezza interiore brilla. E oggi è il giorno perfetto per condividerla con il mondo. Gli astri vi regalano una giornata di rara armonia sentimentale. Se avete vissuto delle incomprensioni nei giorni precedenti, ora il sereno torna a splendere nel vostro cielo. Le relazioni già consolidate potrebbero ricevere una spinta verso un'intesa più profonda, basata su un dialogo chiaro e sincero. Anche per chi ha la ricerca dell'anima gemella, il momento si presenta come propizio. Un incontro speciale potrebbe scatenare scintiglie. Concedetevi al flusso delle emozioni senza paura di mostrarsi vulnerabili. Segno Scorpione. Oggi sei avvolto da un'aura di mistero e intensità. Le tue emozioni profonde possono portarti a scoprire nuove verità su te stesso e sugli altri. Non temere di esplorare questi sentimenti, penché possono rivelare connessioni sorprendenti. In amore. La tua passione potrebbe accendersi. Lascia che il tuo istinto ti guidi e non trattenerti. I legami che crei oggi potrebbero essere più significativi di quanto pensi. Ricorda. La vulnerabilità può essere una forma di forza. Prenditi del tempo per meditare e connetterti con il tuo io interiore. Questo ti aiuterà a trovare equilibrio e chiarezza. La giornata potrebbe presentare delle sfide in ambito amoroso. La vostra naturale intensità emotiva rischia di creare tensioni se non riuscite a gestire i vostri desideri. Evitate di cadere nel gioco del controllo e cercate invece di aprirvi a un dialogo sincero. Le coppie potrebbero sentirsi sopraffatte da discussioni passate, ma con un po' di pazienza tutto si risolverà. I single potrebbero dover affrontare una delusione, ma non lasciate che questo vi scoraggi. La luna vi è particolarmente favorevole e vi regala una dose extra di buon umore e positività. Questo è il momento perfetto per concentrarvi su ciò che vi rende davvero felici, sia nel lavoro che nella vita personale. Segno Sagittario. Oggi il tuo desiderio di avventura e libertà è più forte che mai. La curiosità ti spinge a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che spirituali. Se hai l'opportunità di viaggiare o di imparare qualcosa di nuovo, non esitare a coglierla. Le esperienze recenti potrebbero aver acceso in te una nuova passione per la conoscenza. In amore. L'entusiasmo e la spontaneità possono ravvivare la tua relazione. Sorprendi il tuo partner con un'idea originale per un appuntamento o un'attività inaspettata. Sì aperto a nuove esperienze e lascia che il tuo spirito avventuroso ti guidi. Prenditi del tempo per riflettere sui tuoi sogni e obiettivi. Oggi è un giorno perfetto per pianificare il tuo futuro e dare vita alle tue aspirazioni. Un'ondata di passionalità vi travolge, riaccendendo la fiamma del desiderio. Le relazioni di lunga data potrebbero vivere un momento di rinascita, dove il romanticismo si mescola a momenti di complicità fisica. Se siete single, questo è il giorno perfetto per osare. Magari lanciando uno sguardo a ondace o inviando un messaggio che trasuda interesse. Le stelle vi invitano a uscire dalla vostra zona di comfort e a rischiare. Segno capricorno. Oggi la tua determinazione e il tuo senso pratico risplendono con intensità. Le tue capacità organizzative e di pianificazione saranno particolarmente utili per affrontare le sfide quotidiane. Concentrati sul lavoro e sugli obiettivi a lungo termine, la tua disciplina sarà ricompensata. In ambito professionale, non esitare a mettere in mostra le tue competenze. Gli altri potrebbero riconoscere il tuo valore e offrirti nuove opportunità. Non dimenticare di prenderti cura di te stesso. Concediti un momento di relax per ricaricare le batterie. La giornata potrebbe far emergere delle insicurezze nascoste. Forse siete preoccupati per il futuro della vostra relazione o sentite che qualcosa non sta andando come dovrebbe. Le stelle vi consigliano di affrontare queste paure con il dialogo, cercando di non isolarvi nel silenzio. Anche chi è single potrebbe sentirsi confuso su ciò che desidera davvero, ma questo non è il momento di forzare le cose. Lasciate che il tempo porti chiarezza. Le stelle vi consigliano di essere più concreti e di non lasciarvi trasportare troppo dalla fantasia. Nelle decisioni da prendere, sia in ambito lavorativo che sentimentale, è essenziale andare subito al punto e fare scelte pragmatiche. Solo così riuscirete a ottenere risultati tangibili e duraturi. Segno Acquario. Oggi la tua mente innovativa e il tuo spirito libero sono in piena fioritura. Ti senti ispirato a pensare fuori dagli schemi e a esplorare nuove idee che potrebbero portare a cambiamenti significativi nella tua vita. Potresti ricevere riconoscimenti per la tua creatività e la tua capacità di affrontare le sfide in modo originale. Non sarebbe una sorpresa se qualcuno si rivolgesse a te per consigli. La tua visione unica è molto apprezzata. Prenditi anche del tempo per riflettere su te stesso e sui tuoi obiettivi. La tua originalità è una risorsa preziosa. E oggi è un ottimo momento per esplorare nuove strade che possano portarti verso la realizzazione personale. Non dimenticare di concederti un momento di relax e divertimento. La vita è più bella quando puoi goderti le piccole gioie quotidiane. Oggi è il giorno per esplorare nuove dimensioni della libertà sentimentale. Se state vivendo un rapporto che vi sembra troppo restrittivo, potreste sentirvi spinti a ridefinire i confini. Non si tratta di allontanarsi dal partner, ma di creare spazi di autonomia che rinvigoriscano il legame. Chi è single avrà l'occasione di incontrare persone intriganti che condividono una visione della vita simile alla vostra. Siate aperti a nuove esperienze, anche se fuori dai vostri schemi abituali. Segno pesci. Oggi la tua sensibilità e intuizione sono particolarmente accentuate. Ti sentirai più connesso con le tue emozioni e con quelle degli altri, il che può portarti a esperienze profonde e significative. Potresti trovare conforto nell'arte, nella musica o nella scrittura, penché queste attività ti aiuteranno a esprimere le tue sensazioni in modo autentico. Non esitare a dedicare tempo a te stesso, penché il benessere emotivo è fondamentale per affrontare la giornata. Ricorda, sei la tua più grande priorità, quindi non metterti da parte. La giornata vi invita a immergervi nelle profondità dei sentimenti. Potreste trovarvi a riflettere su questioni passate, soprattutto se avete delle ferite ancora aperte. Le stelle vi incoraggiano a non fuggire dalle emozioni, ma a comprenderle e a trasformarle in opportunità di crescita. In coppia, cercate di evitare drammi eccessivi, cercando piuttosto il dialogo. I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che risveglia antichi ricordi, ma è importante procedere con cautela.